Ciao ragazzi! Un SASU in Rayagas! ciao un saluto dal calcio un saluto dal calcio ALLOOOOOOOOO OOROOOOOOOOOOOOO Inter! Che fai cagare il gioco magredi, fa gare Sbate pagzo Il gioco magare non e statoo frizzaantissimo sbate pagzo Il gioco magari non è stato quello del Barcellona di Ronaldinho. Svatecaz. Tre punti dovevano essere e tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Sono si nu per essere e tre punti sono stati.